Insieme ai nostri ascoltatori ricordavamo che questa libertà è una libertà apparente, ipotetica. Siamo passati da un regime ad un altro che ci dà l'illusione di essere liberi, ma in realtà non lo siamo. Un popolo come quello italiano, di artisti, di sognatori, ma anche di persone che hanno l'eccellenza nel sangue, quando facciamo una cosa la vogliamo fare bene, dal cibo, dal cibo che ci vede al primo posto nel mondo ormai incontrastati da sempre, anche all'abbigliamento, alla manifattura, a tutto, le automobili, le automobili da quelle utilitarie a quelle di lusso, cioè dalla 500 alla Ferrari, alla Lamborghini, se ricordate, non ve n'era per nessuno in tutto il mondo, non ce n'era proprio per nessuno, facevamo le cose migliori. È chiaro che questo ha un po' creato l'invidia nel mondo e visto che noi eravamo stati liberati con l'aiuto di altri, voglio dire, questi dicono, bussa una porta, io l'ho liberato, adesso, scusa, potrei riprendermi indietro un po' di cose, visto che non è che l'ho fatto perché sono buono, l'ho fatto perché ero come quell'altro. La verità è che mentre quell'altro era talmente stupido da non mostrare i denti, eccetera, io non li mostro e quindi piano piano ti ricompro, piano piano occupo gli spazi, facciamo vedere che c'è libertà, tu puoi parlare, puoi dire, puoi fare, però poi dopo la tua parola non viene moltiplicata, non viene amplificata, non puoi accedere, non potrai accedere agli spazi, quelli veri, e questo è uno degli argomenti dei quali ci stiamo occupando e ci occuperemo nei prossimi mesi, e quindi io ti dico che c'è la democrazia, c'è la libertà, poi in realtà non c'è. Mettete tutti i mezzi di comunicazione al pari, date le pari opportunità. Questo dovete fare, non zittire questi scemi, questi pazzi, ma dovete dare a tutti la possibilità di comunicare allo stesso modo, di essere ricevuti allo stesso modo. Questo è il problema, che voi queste cose le fate passare nei grandi media dominanti e tutti gli altri che cercano di difendersi, ovvero di creare una reale società civile dove non stiamo più qua da capigliarci fra fascisti e antifascisti. Pensate che voi addirittura qualcuno ha detto, pensate, che la Costituzione è antifascista, come se una Costituzione potesse essere anti-qualcosa, anti-qualcosa. Ma se una Costituzione di uno Stato è anti-qualcosa, significa che sta favorendo comunque gli scontri, lo scontro, una Costituzione deve dettare delle regole, senza stare a guardare di essere anti-qualcuno o qualcosa. Deve dettare le regole, le regole sono queste, stop, punto, si rispettano, sono regole civili, condivise, non che devono essere anti-qualcuno. E allora dovrebbe essere anche anti-quello dietro, anti-ecrociate, anti-impero romano, anti-quello, anti-quell'altro, anti-Gengis Khan, anti-comunista, anti-quello... Ma di che state dicendo? Ma voi qua dentro ancora un po' di sale ce l'avete in zucca? Oppure pensate veramente di poter dominare il popolo come fossero degli scemi, dei decerebrati? Io questo me lo domando. Io non voglio una Costituzione anti-qualcosa o qualcuno. Io non ne voglio più parlare di una questione che è morta e sepolta 80 anni fa, perché io ho le palle veramente piene di questa storia, ragazzi. Alessandro. Bisogna fare una prima distinzione, secondo me, linguistica, perché, vedete, le parole e la corruzione delle parole diventa poi corruzione dei pensieri e dopo che corruzione dei pensieri diventa corruzione dei comportamenti e alla fine anche corruzione delle aggregazioni umane, delle comunità, degli stati e quindi anche delle Costituzioni. Cominciamo da una prima distinzione che è quella che io farei a partire da una definizione. Fascismo. Che cos'è il fascismo? Io intanto direi che ci sono due fascismi. C'è un fascismo con la F maiuscola e c'è un fascismo con la F minuscola. Il fascismo con la F maiuscola, nome proprio, sostantivo proprio, quindi con una connotazione storica, è un movimento che nasce a cavallo prima, dopo e durante, e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha un nome che tra l'altro si appella ai fasci. La prima, scusami Alessandro, la prima guerra mondiale è un lapsus. Prima, prima, scusate, scusate, non sono sbagliato. Un lapsus. Alla prima guerra mondiale, quindi è un movimento storico, come dire, che ha degli antessignani simbolici nei fasci repubblicani e anche dentro i documenti della dichiarazione dei diritti dell'uomo, della rivoluzione francese, il movimento dei fasci siciliani, molto prima del fascismo, e poi il fascismo che nasce insieme ai quadrumvili della Marcia su Roma, Benito Mussolini, la presa di potere, peraltro, fortemente voluta dalla monarchia di Vittorio Emanuele III nel 1922, dopo il nutro fiducia di Facta, quando ci rinunciò allo Stato d'assedio, perché la Marcia su Roma, che era una passeggiata in carrozza, fece dire al compianto Leo Unganesi, proprio a proposito della Marcia su Roma, che in Italia le uniche rivoluzioni che si possono fare sono quelle che si fanno con l'autorizzazione del re e del maresciallo dei Carabinieri. Quindi l'avvento del fascismo fu questo, fu una presa di potere da parte di settori degli agrari, degli industriali del nord, di segmenti dell'attifondismo agricolo del sud, dello schiacciamento degli errori, anche gravissimi, fatti dalle case del popolo e dai sindacati, dell'occupazione delle fabbriche nel 1920 e quant'altro. Quindi il fascismo poi dura un certo numero di anni, diciamo che possiamo situarlo storicamente tra il 1922 e la caduta di Mussolini nel 1943, e poi la fuga di Mussolini al nord, e poi la vicenda tragica della Repubblica Sociale Italiana, la guerra civile italiana molto sanguinosa, e diciamo che ne situiamo in qualche modo una fine storica con degli epigoni poi spesso folcloristici dopo il 1945. Insomma questo è il fascismo con la F maiuscola. Poi in altri paesi a destini diversi, nella Spagna di Franco, nel Portogallo di Salazarra e quant'altro. Però questo è il fascismo. Il fascismo con la F minuscola invece è un nome comune, non è un nome proprio, è un nome che ha a che vedere con un atteggiamento antropologico, psicologico, giuridico, che significa negazione della libertà dell'altro, repressione della sua volontà, distruzione dei diritti costituzionali, dell'intangibilità del corpo, della mente e dell'anima, oppressione, pensiero totalitario, pervasivo, impossibilità di un vero pluralismo delle idee e dei linguaggi, impossibilità di autonomia locale, personale e di qualsiasi modello basato sulla sussidiarietà federativa, cioè sulla possibilità delle persone di auto-organizzarsi autonomamente e di auto-determinarsi, monopolio dei mezzi di informazione, oppressione dei mezzi di informazione all'opposizione, controllo paramilitare o tecnologico del territorio. Insomma questo fascismo con la F minuscola, come ben si vede, non è morto nel 1945, ma direi è vivo, è vivissimo e l'abbiamo visto in azione a suo massimo grado durante i periodi del lockdown e poi della lotta al complottismo e al negazionismo contro il totalitarismo virale, contro la dittatura nazisanitaria che abbiamo sentito sulle nostre pelle, sulle nostre palle e che sentiamo tuttora e che si sente nel controllo del mainstream, della circolazione delle informazioni, nel controllo di un pensiero totalitario rispetto alla politica estera, nella considerazione che c'è una potenza straniera che ha 120 basi militari in Italia e non consente neppure a qualcuno di sfilare in piazza come i ragazzi a Torino ieri manganellati e martellati mentre dicevano via la Nato dall'Italia. Insomma, questo fascismo è superoperante e come aveva in qualche modo preconizzato Pasolini, questo feroce fascismo con la F minuscola si veste potentemente di antifascismo verso il fascismo con la F maiuscola. C'è un equivoco, c'è un equivoco logico, c'è un equivoco simbolico, c'è un equivoco linguistico e su questo equivoco si basa l'uso della retorica antifascismo come strumento per affermare, imporre, consolidare, cristallizzare, sclerotizzare il fascismo del presente con la F minuscola che vestito da antifascismo non ha neanche però più le forme del comunismo ma è una specie di tecnocrazia basata sul politico alicore e governata dai soliti padroni del vapore che si servono dell'una e dell'altra ideologia alla Soros per reprimere l'autodeterminazione dei popoli utilizzando il potere del denaro e quello militare della potenza dominante oggi che sono gli Stati Uniti d'America governati da una certa massoneria internazionale di origine schenazzita. Le solite cose che abbiamo ripetuto un milione di volte. Voglio sentire anche il parere di Alberto però poi su questo c'è anche delle riflessioni da fare perché poi ci sono una serie di strumentalizzazioni che sono in atto quindi anche le vere vittime del fascismo quello vecchio, quello con la F maiuscola e quindi la resistenza e quindi tutte le comunità ebraiche che hanno il diritto di rivendicare quello che è accaduto nel passato ma oggi tutte quelle persone non ci sono più ci saranno i discendenti che molti di questi in buona fede ma molti altri probabilmente che cercano solo una strumentalizzazione mi pare di capire perché poi alla fine quella storia è morta, finita, sepolta il problema non esiste più mantenerlo vivo credo che faccia forse comodo a qualcuno a qualche strumentalizzatore ma